Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info La democrazia è in presidio permanente alle palazzine IACP di Via Romagna, quella che vedete sbordare è l'acqua che viene fuori e sonda dalle fondazioni di un parcheggio sotterraneo, già struttura di un contratto di quartiere ferma da dieci anni. Stiamo inquadrando il cantiere oramai abbandonato da dieci anni del parcheggio sotterraneo del contratto di quartiere in Via Romagna. Praticamente è rimasto tutto come era nel corso dei lavori. Al di sotto di questa piattaforma che vedete così catramata c'è una piscina di acqua melmosa di quasi tre metri di altezza. I problemi sono evidenti di carattere igienico-sanitario, sono evidenti le contaminazioni che ci possono essere anche a livello strutturale perché quest'acqua sta spugnando completamente le fondazioni delle palazzine IACP di Via Romagna. Il problema è grandissimo e deve essere affrontato subito. Grazie a tutti.